Abbonati per vedere video senza pubblicità e iniziare un tuo percorso spirituale. Buona visione! La memoria non è appannaggio esclusivo della specie umana, però nell'uomo, come del resto ogni attività psichica, acquista particolare importanza, rilievo e sviluppo. Esistono persone dotate a questo proposito di facoltà non usuali e che potrebbero essere definite artisti della memoria, essendo fornite di un'attitudine fuor del comune a ricordare immediatamente nomi, date, superfici, distanze, come accade talvolta di constatare nei concorrenti a certi quiz molto in voga attualmente. Scientificamente si può dire che queste persone sono dotate di una ipermnesia, che è l'opposto dell'ipomnesia o dell'amnesia, cioè dei disturbi della memoria di vario genere e grado. Per alcuni è una memoria prevalentemente meccanica, per esempio il ricordo di una serie di numeri senza ordine, mentre per altri, e solo i più, si tratta di una memoria razionale, intellettiva, in cui predomina un'elaborazione logica che permette di connettere i ricordi secondo uno schema significativo, sia pure circoscritto ad un determinato tema. Anche una macchina cibernetica può ricordare i numeri, ma il cervello umano è qualcosa di ben diverso da un robot, infinitamente superiore da un lato e nello stesso tempo più fragile dall'altro, cosicché non è di tutti saperlo dominare e sfruttare. Quando si voglia andare a fondo in questo campo, ci si trova dinnanzi ad immense difficoltà. Perché certe persone sono dotate di una particolare capacità mnemonica? Come abbiamo già detto, il GAL, fondatore della frenologia, sosteneva che la facoltà della memoria aveva sede nei lobi frontali del cervello. Le tendenze moderne della neurologia sono viceversa piuttosto contrarie al concetto di localizzare nel cervello regioni distinte, corrispondenti alle varie funzioni psichiche. perciò non sarebbe esatto dire che esista un centro della memoria. Tuttavia, nonostante prevalga oggi, e non solo a questo proposito, ma in tutti i campi della medicina, l'indirizzo psicologico, i ricercatori nel campo neurologico non hanno desistito dallo scandagliare i substrati anatomofisiologici delle funzioni psichiche. Per quanto riguarda la memoria, un neurochirurgo canadese, Wilbert Penfield, sostiene che per i ricordi di impressioni di vita vissuta esiste una particolare regione del cervello. Egli lo ha rilevato durante interventi chirurgici su ammalati di epilessia, con zone cerebrali scoperte, stimolando con una corrente elettrica alternata varie parti del cervello. Poiché questi pazienti, durante l'operazione, non sono sottoposti alla narcosi, sono in condizione di riferire gli effetti delle stimolazioni. Applicando gli elettrodi su determinate zone dei lobi temporali della corteccia cerebrale, si ebbe la formazione di complesse reminiscenze che furono riconosciute in successive interrogazioni, sempre come ricordi di effettive esperienze vissute. Per esempio, uno dei soggetti intese una canzone che riconobbe come un brano di musica udito in una radiotrasmissione. Un altro sentì parlare un suo amico che risiedeva nel Sudafrica. Un terzo ebbe l'impressione di vedere un uomo col suo cane presso la sua casa di campagna. Che il lobo temporale abbia particolari rapporti con il meccanismo della memoria è del resto acquisizione di vecchia data. In un malato che soffriva per un focolaio epilettogeno nel lobo temporale, gli attacchi epilettici erano preceduti dalla sensazione che qualcuno pronunciasse il suo nome. In un altro paziente, affetto da tumore del lobo temporale, si avevano spesso allucinazioni visive durante le quali egli scorgeva una vecchia donna, in dubbia reminescenza dell'età giovanile. Un ufficiale di Marina, prima dell'accesso epilettico, credeva sempre di avvertire il sapore di rum della Giamaica. Ciò tuttavia non significa ancora che il meccanismo intimo fisiologico della memoria sia conosciuto. Così dobbiamo accontentarci di espressioni indeterminate per illustrare il concetto di memoria. Fosforescenze o vibrazioni registrate dal cervello, ha detto qualcuno. cemento che tiene collegata la struttura psichica, l'ha definita un altro. E chi ha parlato di circuiti di cellule nervose e chi ha introdotto le teorie chimiche paragonando la funzione mnemonica del cervello ad una lastra fotografica. Pur senza conoscere il meccanismo intimo fisiologico, possiamo dire che la memoria può essere sviluppata e migliorata con l'allenamento e le ripetizioni. Mentre dei ricordi non richiamati alla mente si ha un oblio progressivo, cioè si rievocano meglio i ricordi di ieri che non quelli dell'altro ieri. I ricordi richiamati con frequenza persistono in rapporto diretto con le ripetizioni e in questo caso sono meglio rievocati i ricordi più vecchi. Che per aiutare la memoria ha molto importanza l'interesse per ciò che si desidera ricordare. Che l'emozione può disturbare la memoria come si constata nell'amnesia che colpisce chi prova uno spavento o subisce uno shock. La memoria in fondo è una lotta continua con l'oblio il suo grande nemico un nemico anzi implicito nella memoria stessa poiché una memoria che non dimenticasse mai nulla finirebbe per diventare ingombrante a causa di un cumulo di ricordi privi di importanza. Perciò è stato detto scherzosamente che la memoria è la facoltà che fa dimenticare.